io voglio sapere che tu andai a fare con le corne cattine invece di scettare le due, tu metti l'assia che non mi va a dire io non c'è stai in oscetti, ma come la va a fare tu? ci sono chi non sei oppure portagliolo indietro il tabacchino e fatti avere un altro schifoso